Ciao, la cosa più bella che ho scoperto restando a casa è restare tantissimo con mamma e papà. La cosa più brutta che ho provato è non vedere più i miei amici, non andare più a calcio e non vedere più le mie maestre. Per colpa del coronavirus noi ultimamente non possiamo più uscire di casa, giocare e divertirci con i nostri amici. Ecco perché dobbiamo anche rispettare le regole che ci sono state imposte. E io sono felice perché ho riscoperto i valori di stare in compagnia della mia famiglia, con i miei genitori, con i miei nonni e anche con i miei cagnolini. Ecco perché noi ora socializziamo anche di più, mangiamo tutti insieme a tavola, ci divertiamo insieme, cuciniamo insieme. Anche se mi manca tanto i miei compagni, la scuola, imparare soprattutto e anche le maestre. Però io mi reputo anche fortunato perché ci sono delle persone che sono chiusi in casa da sole. È una cosa molto triste perché non ho nessuno con cui socializzare, parlare. Ecco perché proprio a loro io voglio dire andrà tutto bene.